Allora sbollite un pochettino la notizia dell'FSR3 e proviamo un attimo oggi a parlare e a dire qualcosina di più perché ho visto un pochettino tanta confusione e più di qualche commento che probabilmente non ha ben capito il senso di questa tecnologia e forse anche come accettarla o non accettarla all'interno delle nostre vite da gamer Siamo tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video Per iniziare ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivando la maniera delle notifiche e ovviamente lasciare un mi piace a questo video ed un commento per farvi capire meglio la vostra opinione Magari dopo questo video potreste cambiarla, potreste mantenerla uguale però comunque ecco l'importante è anche un attimo capire qual è il termometro perché in giro ho letto tante cose e probabilmente in pochi hanno effettivamente compreso il senso La presentazione dell'FSR3 di AMD allo strato è dei fatti diciamo che era quantomeno una mossa dovuta di conseguenza avere un così tanto entusiasmo per qualcosa che si sapeva già che sarebbe stato fatto Per una cosa che AMD era costretta a fare perché insomma uno dei temi su cui più si parla in questo momento soprattutto da parte di Nvidia è il DLSS AMD sicuramente dovrà dare una risposta perché comunque è il competitor che da più tempo è all'idea del mercato GPU infatti nessuno si aspettava praticamente una risposta da Intel in questo momento non lo so nessuno parlare di frame generation da parte di Intel non sappiamo se Intel lo adotterà oppure no però sappiamo comunque l'FSR3 a prescindere girerà anche sulle schede video Intel quindi comunque insomma abbiamo già questa cosa che è abbastanza interessante quello che però non riesco a capire è vero che non possiamo stare qui posso dire a gioire troppo e a crearci praticamente cioè a sparare fuochi di artificio letteralmente però comunque ho visto determinate persone molto più attive molto più felici del DLSS 3.5 che essenzialmente è il miglioramento di una parte del tutto che è il ray tracing quindi praticamente avere il ray tracing più bello piuttosto che essere contenti per una tecnologia che a prescindere può essere una tecnologia che va praticamente su tutto e che comunque dà una grossa mano a diverse schede anche schede che sono state probabilmente ingiustamente tirate fuori da Nvidia e che comunque potrebbero sfruttare tranquillamente appunto degli artifici di frame generation e che sicuramente andranno a giovare molto più di questa tecnologia rispetto anche a schede video più lente adesso ci arriviamo anche al fatto che schede video di fascia troppo bassa non sono stati presi in considerazione insomma per il totale dell'FSR 3 il discorso sarà molto chiaro nel momento in cui andremo a spiegare il tutto ora l'FSR 3 è una tecnologia che al momento non abbiamo in mano non ce l'ha nessuno chi ce l'ha in mano in questo momento sono gli sviluppatori infatti i primi rilasci di FSR 3 avverranno attraverso gli sviluppatori quindi praticamente AMD ha rilasciato il suo bel Fidelity FX, SDK eccetera eccetera con l'FSR 3 loro lo metteranno nei giochi, faranno quello che gli pare e i giochi teoricamente dovrebbero iniziare a sfruttare questo FSR 3 ora il metodo di funzionamento dell'FSR 3 è abbastanza semplice mettiamoci comunque prima per capire un pochettino dove avviene e cosa fa in una situazione nativa praticamente il PC fa il suo lavoro di rendering, ok? dopodiché applica gli effetti, lancia l'immagine, finito? quando c'è l'FSR invece attivo, per esempio Final 2, cosa fa? renderizza l'immagine ma ad una risoluzione minore in modo che è più facile farlo l'FSR fa l'upscale, dopodiché applica gli effetti e finisce l'immagine, perfetto? e poi ricomincia da capo l'FSR 3 con la frame interpolation, perché loro non la chiamano neanche frame generation non la chiamano frame interpolation, perché sono a tutti gli effetti dei frame interpolati e adesso ci arriveremo anche a questa cosa praticamente dopo aver mandato l'immagine a schermo si preoccupa anche di interpolare questi frame appunto interpolare vuol dire che mette un frame tra l'uno e l'altro quindi vi dice, ah ok ma se questo è così, questo è così in mezzo ci posso mettere questo detta proprio facile facile cosa fa invece l'FSR 3? renderizza l'immagine a una risoluzione più piccola dopodiché l'upscala e ci interpola i frame quindi praticamente mette questo frame tra tutte e due applica gli effetti, poi manda a schermo e si ripete praticamente questo ciclo quindi comunque insomma questo qua è il metodo di funzionamento i frame interpolati, per quanto ci possa sembrare una novità in realtà è una cosa che esiste da un sacco di tempo AMD non sta facendo nient'altro che mettere alla fine a livello gaming e in tempo reale quella che è una tecnologia che per quanto riguarda il decoding video e anche l'encoding video è molto utilizzata e che praticamente si utilizza da sempre ovvero i b-frame messo sotto un altro punto di vista ma con lo stesso tipo di logica i b-frame praticamente sono quei frame che nel momento della compressione del video in cui noi registriamo un video poi va decodificato e quindi praticamente va decompresso per essere visto i b-frame praticamente sono quei frame che vengono creati perché dice ma se tanto il frame prima è così e quello dopo è così in mezzo ci sarà sicuramente questo questo ovviamente serve ovviamente per alleggerire il peso del stesso del video altrimenti poi potrebbe andare a compromettere le dimensioni perché diventerebbe troppo grande è la stessa logica che possiamo trovare dietro l'interpolazione dei frame che in realtà è una cosa come vi ho detto che esiste già da diverso tempo la vera novità sta nel fatto che AMD adesso lo fa applicare in tempo reale e via software infatti non è richiesto un hardware dedicato per questa cosa ma questo non vuol dire non avere alcun tipo di limitazione su Windows se lo volete pagare poco dovete prenderlo sul sito che trovate in descrizione perché in descrizione c'è ovviamente keyspun dove basta che premete già sul link lui vi manda la pagina d'acquisto senza che mettere coupon e niente prendete e lo comprate dopo qualche tempo va arrivato dopo qualche tempo se va chieda quanto passa dopo tre minuti va arrivare la mail con la chiave e voi la mettete ed è fatta tra l'altro non vi preoccupate se qualsiasi problema voi contattate con l'assistenza e in poco vi rispondono meglio di così avete preso pure Windows a poco allora l'FSR3 innanzitutto parte dal presupposto che vuole essere qualcosa di artifact free come si dice qua ciaone perché la vedo molto complicata che possa essere in nativo abbiamo gli artefatti artifact free mi sembra veramente esagerato dopodiché vuole essere applicato praticamente andando a chiamare l'engine grafico praticamente il motore grafico quindi per aggiungere delle callback quindi praticamente in modo di dire al motore grafico ehi fai questo penso che questo dovrebbe servire un pochettino a scaricarlo poi all'interno della frame generation di AMD viene introdotta questa swap chain letteralmente posso dire cambiare l'ordine della catena di produzione dei frame o dei frame stessi non ho ben capito cosa vogliano dire anche per questo qua sono tutta la documentazione che voi potete trovare tranquillamente su GP open perché la parte bella dell'FSR3 è che appunto è open source quindi tutti possono accedere praticamente a ciò che è e quindi insomma andare a capire meglio anche per implementarlo all'interno dei loro applicativi non ho capito quindi praticamente dovrebbe prendere comunque dei frame diversi da una parte all'altra a destra e a sinistra e cercare quindi di interpolare al meglio possibile ovviamente quando vai ad interpolare vai comunque ad aggiungere latenza esattamente come succede con DLSS3 ora col DLSS3 erano tutti quanti molto colpiti e stupiti del fatto che ci fosse la possibilità di avere questa Nvidia Reflex che va a ridurre la latenza che la frame generation ti porta in realtà AMD una soluzione che applica la riduzione della latenza ce l'ha anche da prima di Nvidia quindi insomma non era nulla di così nuovo e straordinario e per questo io sono sempre più stupito di come le persone abbiano veramente fatto i fuochi d'artificio per delle tecnologie di Nvidia che si DLSS3 bello insomma l'evoluzione stessa che ha avuto era comunque insomma qualcosa che si poteva già aspettare invece l'FSR3 prendono e partono critici c'è da essere critici adesso e ci arriviamo anche insomma in questo momento penso di essere usato già abbastanza fatto sta che comunque sull'FSR3 si può utilizzare tutte le tecnologie di anti-lag anche se in realtà AMD ha anche creato questo radio un anti-lag plus che però è soltanto sulle 7000 credo che sia comunque un qualcosa di derivazione software non penso che sia un'aliminazione hardware anche perché RDNA2 e RDNA3 sono tanto diverse ma anche tanto simili su alcuni aspetti di conseguenza credo che possa tranquillamente andare dipende poi dall'implementazione che si andrà a fare essendo tutto open source insomma mi aspetto che ben presto insomma qualsiasi limitazione di tipo software possa venire rotta se ne vale la pena farlo la cosa interessante che introduce questo FSR3 è praticamente la frame generation pu, nuda e cruda senza però l'upscale il che vuol dire che tu effettivamente puoi utilizzare l'FSR3 puoi andare a utilizzare la frame generation ma non su dei frame upscalati che comunque puoi andare a creare dei problemi ma letteralmente sulla parte renderizzata nativa avete visto che vi ho detto prima la catena di rendering era rendering a una risoluzione praticamente più bassa upscale interpolo effetti mando a video e ripeto ora invece di fare renderizzo a una risoluzione più bassa upscale interpol eccetera e via faccio semplicemente renderizzo a quello che devo renderizzare interpolo effetti e mando quindi praticamente perdiamo un passaggio che dovrebbe anche in qualche modo diminuire la latenza però comunque insomma la scheda è costretta lo stesso a caricare il frame a renderizzare il frame alla risoluzione nativa che è più pesante detto chiaramente ovviamente con il frame generation è sempre un frame interpolato quindi poi comunque il frame che andiamo a vedere in mezzo per quanto poi possa partire da una risoluzione nativa non mi aspetto che sia perfetto insomma sicuramente una delle cose su cui dobbiamo parlare sono i requirement che vanno un pochettino a vedere dove va questo FSR3 dove va la frame generation cosa fa cosa non fa chi è tirato fuori allora partiamo dal presupposto che se il DLSS3 con la frame generation per funzionare ha bisogno di tanti frame e di conseguenza siamo stati noi i primi a dire che il DLSS3 su alcune schede come può essere la 40-60 va bene che c'è però comunque insomma quando le performance non sono già alte si va ad avere una soluzione che è sempre più degradata nella qualità grafica l'FSR3 allo stesso modo anzi ancora di più predilige degli alti frame rate perché andare ad interpolare dei frame è un conto il frame interpolato che tu ne fai 60 su 30 un conto su 120 su 240 perché praticamente il frame interpolato dura talmente poco che tu neanche lo vedi e allo stesso modo c'è molte più informazioni per andare a creare un frame migliore ed è per questo che AMD introduce la frame generation dalla RX5007 in su e dall'RX2000 in su ora se noi diciamo ci facciamo un attimo i conti e possiamo effettivamente posso dire magari anche farci indignare da questa cosa la frame generation rendevi conto che una 5700 è una scheda video che va più o meno come un RX6006 ok un RX6006 già oggi la compriamo per giocare in full HD prendere qualcosa sotto una 6600 vuol dire andare a scomodare roba come la 6500 o sempre di Ronald 5000 e la 5600 XT secondo me ci sono effettivamente tre schede che purtroppo sono tirate fuori da quella che è una tecnologia che comunque potrebbe essere utile per loro per quanto riguarda il full HD che sono la 5600 XT la 1070 Ti e la 1080 e la 1080 Ti alla fine sono qua no dai la 1070 Ti togliamola quindi 5600 XT 1080 e 1080 Ti queste tre schede effettivamente sono tirate fuori ma ragazzi scendere di più se abbiamo appena detto che ci vogliono un sacco di frame per fare in modo che l'effetto sia quanto meno gradevole capite bene che è quanto meno inutile qui non si tratta neanche più di una limitazione software perché probabilmente questo coso funzionerà tramite API Vulkan API DirectX 11 DirectX 12 eccetera quindi comunque non è che vuol dire non è che c'è una limitazione basta che quella scheda possa andare a sfruttare quel tipo di API e quella tecnologia può andarla a utilizzare è che probabilmente AMD impone un blocco perché sa perfettamente che andare ad utilizzare questa tecnologia su schede video più vecchie che non riescono a generare quel numero di frame va soltanto a creare una situazione in cui l'effetto non è gradevole e si fanno più danni che non danni infatti l'FSR3 poi tramite upscaling comunque AMD lo propone dalla 590 in su e dalla GTX 1000 in su schede che tirate fuori praticamente come la 980Ti e la 980 diciamo che in questo momento iniziamo ad avere soprattutto la 980 delle limitazioni per quanto riguarda la VRAM di conseguenza si può anche capire fatto sta che io adesso quando dicono GTX 1000 spero che non intendano pure la 1050 e 1050Ti perché sennò iniziamo ad avere un problema abbastanza grave con questa tecnologia anche se però alla fine è solo quella dell'upscaling e quindi va bene un'altra delle problematiche è che AMD ha introdotto praticamente questa tecnologia sui primi due giochi che sono Immortals of Aveum Immortals chiameremo Immortals e basta e Forspoken Forspoken dal punto di vista dell'ottimizzazione è tra i tre peggiori giochi usciti nell'ultimo anno forse anche tra i primi due perché penso che c'è Wolong è imbattibile e poi c'è Forspoken poi tutto il resto come War 2 Wars Legacy Star Wars compagnia cantante vabbè ne abbiamo già parlato insomma però Forspoken è sicuramente la top 2 dei giochi usciti peggio Immortals non lo conosco questa tecnologia viene utilizzata su questi due giochi ed è stata implementata direttamente dai produttori del gioco quindi vuol dire che al momento non c'è ancora questa soluzione mainstream che va via driver che poi come farla andare via driver su una GTX 1000 non lo so però qualche cosa la riusciranno a fare anche noi o semplicemente anche su una 3000 via driver non lo so questo poi secondo me dipenderà secondo me la vera cosa è che questa tecnologia dell'FSR3 della Frame Generation che va a riguardare tutte le schede video riguarda tutte le schede video soltanto se la casa produttrice decide di attivare l'interno del gioco via sviluppo non via driver quindi chi ha una scheda video AMD che lo applici oppure no quello va se però c'è una scheda video Nvidia o chi sviluppa il gioco te lo mette nel gioco oppure ho i miei dubbi che tu possa andarlo a utilizzare perché non hai quel driver infatti AMD ha fatto una capoccia così con i driver nell'ultima nell'ultima conferenza diciamo che vedendo come si comporta Nvidia nel suo modo closed source non gli vado neanche tanto a dare torto alla fine loro gli strumenti li mettono aperti a tutti poi dipende comunque dagli altri non è che possono mettersi a fare il lavoro per Nvidia giustamente la parte però che mi lascia quanto meno perplesso è quello che possiamo definire il test su strada ora questo qui è un video di Youtube a 4k ok perfetto ora due immagini messe di fianco all'altro nell'fsr3 off o nell'fsr3 on non sono un esperto di fotografia per carità ok il risultato che vedo che viene utilizzata come demo quindi come qualcosa che in teoria è al momento il loro miglior risultato io non ci metto molto a capire che non è che sia fantastico come risultato cioè vi basta guardare praticamente soltanto la parte del braccio che è questa qui rispetto a questa ma l'intera immagine per non parlare poi praticamente del frullato che viene di sfondo questo qui tra l'altro è con l'fsr3 performance quindi non è neanche l'ultra performance però comunque insomma un livello molto degradato essenzialmente in 4k stiamo renderizzando probabilmente un 720p una cosa del genere fatto sta che comunque tutto l'effetto che vediamo non è mai particolarmente gradevole infatti possiamo vedere anche qui l'unica cosa che al momento probabilmente riesce a fare meglio rispetto alla frame generation del DLSS3 sono le scritte a schermo perché al momento almeno per quanto riguarda questa parte di Forspoken non vedo degli altri fatti grafici sulle scritte a schermo per esempio sull'HUD come si vede sul frame generation quindi questo lavoro che è stato fatto ma in generale l'intera qualità dell'immagine la vedo abbastanza degradata certo è sempre performance nei prossimi giochi che appunto vedremo questa tecnologia vedremo su cyberpunk vabbè frostpunk squad non so che cosa wukong eccetera c'è una serie di giochi che comunque andranno ad implementarlo questo proprio tramite sviluppatori e questa diciamo è la cosa che dovremmo andare un pochettino a fare ora la mia domanda quindi è questa abbiamo già visto più o meno questa tecnologia come funziona quali sono le limitazioni l'abbiamo vista tecnicamente perché non c'è ancora qualcosa di fortemente tecnico che ci vada a spiegare come funziona la vera domanda è questa tecnologia uscirà praticamente in ampia scala l'anno prossimo possiamo veramente essere felici ed entusiasti di una tecnologia che esce praticamente con un anno e mezzo di ritardo di cui ci sono effettivamente poche limitazioni che è la sua parte più grande dove però il risultato almeno il primo che ci hanno fatto vedere non è poi così bello tra l'altro ho letto anche un articolo di Eurogamer che era lì insomma a colonia durante la gamescon che hanno fatto anche praticamente dei test su The Last of Us Part 1 e lì hanno visto altri tipi di problematiche AMD inizialmente aveva chiesto loro di non esprimere giudizi perché erano ancora inizi eccetera eccetera invece poi hanno detto no fate come vi pare dite quello che volete la tecnologia c'è interessante tutta la parte open source però insomma sparare i fuochi d'artificio per una tecnologia che al momento insomma è un'interpolazione dei frame con dei risultati per quanto riguarda la parte insomma più performance non eccezionali non mi strapperei i capelli allo stesso modo però ragazzi questo per il panorama open source e per il panorama dell'intero schede video e per tutti i giocatori soprattutto quelli un pochettino più parsimoniosi è comunque una gran cosa è un grande strumento che gli viene dato in mano soprattutto a tutti quei ragazzi che durante la pandemia hanno comprato schede video a prezzi enormi assurdi e si sono ritrovati praticamente dopo una serie di GPU a essere tirati fuori dalla feature più interessante che hanno le 4000 io penso a persone che hanno comprato una 3080 1500 1600 euro e roba del genere schede video che comunque ad oggi vanno cioè possiamo confrontare anche con un RTX 4070 schede che hanno quel tipo di tecnologia che però non possono andarla a sfruttare giustamente questa tecnologia queste persone diciamo le aiuta parecchio allo stesso modo però io non è che posso vedere AMD sotterrata per l'FSR3 come se fosse poca roba e invece le persone stappare bottiglie di spumante per il DLSS3 e 3.5 col ray tracing più bello che è soltanto il ray tracing che funziona soltanto sull'RTX e soltanto su quelle determinate cose capite bene che non possiamo fare due pesi e due misure dobbiamo innanzitutto comprendere che quella è una tecnologia interessante e ci può stare in un ambito questa è una tecnologia interessante e ci può stare in un altro ambito ovviamente poi molto di maniera da chi è che va a utilizzare queste tecnologie fatto sta che però io adesso prima di iniziare a creare qualsiasi altro tipo di proclamo vorrei vedere la tecnologia in atto con i miei occhi anche perché se mi devo continuare a basare sulle demo finisce che vado a bocciare qualcosa che magari non va bocciato perché io vedendo quel coso di Forspoken insomma avrei detto già ragazzi ho visto abbastanza però comunque voglio dare tempo al tempo è una tecnologia che verrà rilasciata matura a gennaio quindi tutto il resto se ne parte da gennaio detto questo ragazzi mi raccomando fatemi sapere voi cosa ne pensate commentate condividete e noi ci vediamo al prossimo video ciao